Nel fine settimana la regione sarà interessata da un promontorio anticiclonico con aria relativamente mite e secca in quota. Con questa situazione sabato avremo in genere cielo sereno sulla regione, al limite poco nuvoloso su qualche zona di montagna, con temperature massime piuttosto alte in pianura, arriveranno 21-22 gradi nel pomeriggio, mentre sulla costa la brezza limiterà la temperatura ai 17-18 gradi. Di notte temperature intorno ai 6 gradi in pianura, intorno ai 10-11 sulla costa. Ampia l'escursione termica anche nelle valli, con valori prossimi allo zero di notte, mentre di pomeriggio arriveremo a 15-16 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, cielo poco nuvoloso sulla regione per qualche velatura in quota e qualche annuvolamento nel pomeriggio sui monti. Temperature massime intorno ai 20-21 gradi in pianura sui 18-19 lungo la costa. Con l'inizio della prossima settimana arriverà una perturbazione, giornata di lunedì quindi che vedrà cielo coperto, con piogge ad iniziare dalla mattinata e che nel pomeriggio saranno da moderate a localmente abbondanti. Le temperature massime di lunedì ovviamente scenderanno intorno ai 15-16 gradi circa. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.